se funziona tutto ciao amici grandissimi ragazzi come vai non mi vedo in live in mega campagna di kit kitsune93 trattino basso grandi amici miei vediamo se entra qualcuno ciao a tutti io sto controllando se mi è partito tutto in teoria si ok ci siamo sì sì ci siamo perfect job grandi amici vi saluto grandissimi ci siamo tutti siamo pronti c'è anche axel che ovviamente non avendo l'audio scrive dalla mia live grande axel ok axel mi dai un check per favore mi dici se si sente anche marco se si sentono tutti allora dalla mia live si sente tutto perfetto nessun rimbombo ma perfetto dalla mia axel si sente qualche eco si sentono tutti senti bene anche marco ok ragazzi ok non sto più sentendo axel ok tutto ok ma il ritorno di marco in cuffia come è il ritorno di marco in cuffia cioè senti marco due volte io nella mia cuffia no sei sicuro che non ho problema del tuo audio aspetta che provo ad alzare l'audio mio vediamo se l'audio è la live che provo a sentire marco parla un secondo ciao ragazzi grazie a Kim per la mitica che sei lato insieme ok no io io lo sento normale axel mi sa che è un tuo problema sai anche lei se lo sento normale ah ok ora si sente bene ha detto axel siamo pronti siamo carichi ok un secondo no unisci ti vengo da te oh porco il dio vai che sono anche i live dai ragazzi scusate ciao amici ecco adesso Leonardo è venuto a farmi casino chi? allora ragazzi scusate ah ok un invito invitato a giocare come faccio adesso? Leo ok ci vogliono dieci persone e non le abbiamo cioè non le ho trovate grandissimi scusate stavo invitando mio figlio ma sono uscito io è qui Leo è qui Leo perfetto aspetta un secondino solo ma vai pure aspettiamo tranquillamente vedo che c'è anche rosa nera quindi se quando qualcuno si è scocciato di giocare possiamo anche trovare rosa nera ok con mio figlio poi facciamo rotazione rosa nera facciamo così tutta sera ah voglia gli altri eh facciamo una rosa nera ma benissimo poi se entriamo in tanti possiamo fare quella da dieci ma sinceramente esatto 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 se siamo in tanti volentieri entri si dai se non riesci guarda ti invito ancora se non riesci facciamo un'altra volta tanto che abbiamo un po' troppi problemi stasera allora ragazzi oggi si è la live dei problemi guardate ragazzi una cosa incredibile ciao Sharder amico mio allora Sharder una live incredibile con la mitica kit ciao a tutti e non so dove mettere la telecamera vi dico la verità poi tra l'altro con questa cuffia sembra che c'è un faccione gigantesco ragazzi gigantesco vabbè adesso aspettiamo solo un secondino oh it's my Leonard chi è il capo qui chi è il capo qui chi è il capo chi è il capo qui chi fa startare tutto vai faccio io sì sì faccio io facciamo la selezione del spettacolo facciamo anche con la squadra dai così abbiamo tutto vai tutto tutto messo bella mi piace me l'ha tenuto sì perfetto me l'ha tenuto via dai speriamo di non avere problemi ragazzi di giocare in allegranza stasera in allegranza grande Axel cos'è sta roba B-Max è il mitico Fall Guys è divertentissimo B-Max ma c'è qui la mitica la mia amica Kimberly la mia mitica Kitsune93 devi iscrivere eh iscrivetevi subito tutti i ragazzi ciao a tutti grande Kits Marco ne ho vinto due la volta scorsa non voglio allora non dobbiamo essere da meno bisogna bisogna vincere la rotazione almeno due a testa proprio imperativo mi ha detto Marco mi ha detto Axel che bisogna abbassare un po' il volume tuo del microfono sì 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 leggero leggero oh Marino buongiorno sto facendo una live con il mitico Marco ah grandissima Kits adesso guarda se mi dai un attimo allora io abbasso il mio volume praticamente è quasi a zero ciao Lord ciao Giulia ciao Shard ciao a tutti amici è quasi a zero com'è? è quasi a zero ah Axel prova a dirci com'è? come lo senti? oh Moreno se vinco è tua eh ragazzi c'è la mitica Kits su nel 93 stasera Charler Lord bellissima mitica guarda qua siamo già con uno di squadra Marco molto basso eh mi dicono nella mia che praticamente non mi sentono è migliorato? allora secondo me sì prova a danza se non ti sentono nella tua alzalo tranquillamente perché io ti sento bene no tutti i buchi no ok io sono io sono dentro oh oh non sono ancora caduta eh cioè tanto di cappello mi sa che questa sera eh niente ho parlato niente come non ho detto non parlare mai non parlare mai nulla guarda che baggo il gioco ah peccato mi stavo dentro ma dove ho fatto la trovata oh Axel l'ultima volta mi ha fatto vincere quindi Axel è fortissimo sì sì seconda partita tap è arrivato in finale e via sì sì assolutamente sì ti sta seguendo io non vi vedo più non so se siete indietro o in avanti siete già arrivati ma io sono a metà io sono arrivato adesso dai che ce la facciamo si qualificano le top 9 siamo decimi per adesso allora tu ti senti eh ragazzi abbiamo dei problemi audio pazzeschi sì non so come mai mezz'ora a frivolare perché dicono che te ti senti altissimo a me no adesso ho fatto un po' il mio e è portato un po' di pazienza amici dobbiamo vedere un attimo ok è migliorato è migliorato axel dai dai axel allora ho alzato il microfono ragazzi ho alzato quindi adesso vedete come come mi sento io ti sento benissimo è più da dio oh dai grande axel dai che ce la fai salta oh oh mamma che pelo dai che sei tutti noi no amico no siamo fuori tutti allora quindi dobbiamo premere cerchio perché è un gioco di squadra e ritorniamo alla lobby davvero? eh sì ok cerchio cerchio Leo ma che scusate axel ma figurati ma figurati c'è un certo Andre che ti saluta Marco ciao Andre grandissimo come state ragazzi? dopo mesi siamo riusciti a fare la mitica live con la mitica amica kit e partiamo bene ma non benissimo l'audio è fantasticissimo però fa niente ragazzi tanto è una serata in allegranza vero kit? sì assolutamente sempre bene in vestire questi brava bravo bravo qui ti stanno salutando la Giulia i Shard ti stanno salutando tutti oh ciao a tutti ragazzi vai mettete pronto che siamo carichi mancavo io monero aiuto ciao amico grandissimo oh ragazzi siamo in compagnia della mitica kitsune 93 iscrivetevi al vostro al suo canale ok mi raccomando ragazzi mi aveva aiuto per cosa per il gioco grande moreno non ho dormito stanotte da riprendermi Axel molto male devi fare il sonno della bellezza se no mi fai se no barbuto non viene più a cercarti oh grazie Axel per il suo Marco che volevo farglielo prima anche moreno ma non sono riuscita perché è partita la partita si mannaggia l'audio perché abbiamo tribulato per mezz'ora con l'audio rimbombo tipo chiesa un po' incasinata questa live ma l'importante è che stiamo in allegranza e ci facciamo 4 risate dai ma si dai è la prima la prima di tante vero assolutamente assolutamente ciao manuella grandi ragazzi no sono caduta no no ci sono appena esce qualcuno perché c'è già gente che deve venire e volentieri puoi venire dentro anche tu tranquillo moreno giuro che ti faccio un emotico ok dopo guardo il messaggio privato oh porca dai no questa non posso perderla io voglio la tua emotica non mi è scritto mi dissocio amore no assolutamente è troppo bella ciao ragazzi siamo arrivati axel era in disco fino alle 5 e poi la lavora alle 7 ma come io ero più l'età fino alle 5 del mattino è matto axel sei fuori come un melone sì 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 no sono arrivata grande round finito siamo tutti ragazzi sì sì mi sai sì a sto giro mi sai sì e ho 35 anni infatti axel mi chiedo come tu faccia cioè fino alle 5 del mattino io sono alle 11 3 e 30 mizga ragazzi c'è un sacco di gente che si alza e fa le ore in ottambule no no matti io non ho fisico beh tu calcola Kim che io ho fatto quasi per 30 anni e non è una cosa bella è comunque quello che sto dicendo che ho fatto praticamente finivo di lavorare alle 5 e 5 e mezza e andavo a fare il service audio ai concerti fino a non so cavolo no no siete matti distruggete così non è che uno lo fa lo fa perché è dovere che spavento axel funziona i sound alert adesso però arrivano a rapide ah grande grande andrea axel c'è stato un piccolo problema tecnico cioè i sound alert funzionano ma funzionano sul pc perché sono collegati al pc quindi hai fatto creare in mano race no sono caduta ita buonasera no no non chiedere moreno ma i bacetti te li può dare anche il moderatore ma no per l'emoticon che c'è axel che mi ha detto che era interessato l'altro giorno me l'ha detto in un orecchio adesso te lo scrive la julie julie scrivi per questo il twitch di kimberly per piacere che lo chiedono i ragazzi come scusami no no ho detto il tuo twitch così si iscrivono i ragazzi qui domani grazie ragazzi grandi axel ha detto moreno di sì ce n'hai già un altro malandrino con il contrattino basso per la finale giulia tizune 93 con il trattino basso ma dai non sono caduta ma come ho fatto a cadere no ragazzi la nostra squadra è quarta è colpa mia no no vi prego no sono caduta no dai non c'è questa barriera impegna no aspetta come passo di qua ok così così beh vabbè però grande zane boy ha qualificato grandissimo zane bravissimo veramente sì sì mio figlio grande ma io non riesco ma questa parte qua non l'ho mai fatta non ci sono davvero sì ciao ragazzi che spavento io mi sento con il trattino no tizune 93 trattino basso dopo il 93 giuli scusami giuli arrivo ragazzi dopo la chat che sono caduta di nuovo no dai settimi no 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 dai era un partito di vedere dai bellissima questa skin no dai però ma mi sembra di cadere sul ketchup allora 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 salta salta ok no dai ce la faccio sto giro lo sento eh eh vabbè ah ma si può saltare qui sì ma ditemelo no questa non è la mia mappa ragazzi questa mappa non è la mia dai ma sali però ok vai vai guarda questi che sprintano dai c'è possiamo ancora fare in realtà ma se no non è la mia ragazzi questa proprio ciao amici amiche no buonasera ita come stai tutto bene ciao buonasera buonasera c'è un posto per un blu allora guarda stiamo facendo rotazione quindi facciamo ancora qualche partita e poi assolutamente sì potete giocare tutti esatto blu come stai inizia piscina oggi ehi tariff sì proprio che sfiga no mi sono dimenticata persino di uscire mi sa voi vi siete classificati o era una squadra non lo so eh no è una squadra mi sa quindi non siamo dentro no aspetta vediamo aspetta fammi vedere perché io vedo gli amini no ci siamo ma per culo ma che culo ah sotto quello del colore porca no ok allora quindi qua c'è solo della granuna e lì c'è una banana ok dai i primi step perché sono tutti semplici ita dai qua tutto bene oggi finalmente c'era un pochino di fresco e quindi si stava bene qua madera è venuto un temporale ieri sera banana sì sì banana no aspetta no adesso sono non ricorderò mai ciliegio uva e arancia io sono solo però ciliegio ok vai vai no cos'è quello ha un limone c'era laggiù ci dobbiamo ricordare la fossa no che cos'è no non me lo ricordo dov'è no no la tua squadra è ancora in gara no c'era scritto che la squadra è in gara che peccato ehi ma guarda questo sta in mezzo hai capito dai ma c'è un trucco quindi in questo continuo a saltare mezzo hai capito ehi lord ciao un salutone vuoi venire a giocare anche tu? moreno chi deve bannare siamo fuori moreno devi bannare questo qua che è rimasto sopra al pirullo che girava è mica valido così eh siamo fuori niente diciamo allora fa l'ultima zone boy va bene Leo dopo c'è c'è altra gente che deve entrare allora fa l'ultima zone boy perfetto poi blu se sei pronto scrivi qualcosa che io ti invito grazie Axel per il suo Aita se non ci fossi tu Axel io tra un po' l'ho letto tra un po' mal di testa amore non mi dispiace oh Giuso ciao ciao sei ancora su Ark? ciao ragazzi Axel la volta mettiti pronto Leo no Axel rimane pure perché da quello che ho capito è Leo che sta uscendo ne fa ancora uno con dieci ok cosa ti è morto Zoso di recente? nello spostamento non mi si carica il gioco? no Blu come mai? prova di avviare tutto no mi piacerebbe stella ma sono cotto dopo una giornata pesantissima a lavoro e aver passato la notte in bianco cavolo ma anche tu? come hai tutta questa notte in bianco? è l'estate che devi fare ingiovanire ah Zoso non hai spostato ancora nulla? stai aspettando me? ora hai tratto i bianco dai ragazzi partiamo partiamo la grande 20 hai schifo ma tu sei già avantissimo così porta un sacco di peso maledetto ma non ti basta la Argentavis a bevi e pettinati va bene come faccio per tirarmi giuli non si può c'ho la cuffia deve tirare il ciuffo è vero è vero il ciuffolo che tirato dai 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 mamma mia chi è che mi ha dato un cucciolo avanti che mi ha aiutato tantissimo grazie grazie che in cui sei stato dai dai che ce la faccio passo dopo se ci sei ancora certo assolutamente ecco la no è anche io come faccio ma posso pettinare quelli dietro le reggioni capelli dai 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 sono caduta di lato ma porta c'è stavo cosa che continua dal miss berle e me lo fanno è per vincere buttano fuori che infami vai vai o ce la faccio sono tre primi dai 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 noi qualsiasi porta molto di più dei giallargentani sera più caldo ora ok ci sono quando ho finito la partita in vita mi viene blu appena finiamo hai chiamato un mega terry al 270 tu sei super avanti comunque a che livello sei adesso assurdo ragazzi incredibile siete già arrivati tutti? no Giulia sono morta allora vediamo un attimo si sono tutti morti se la squadra ce l'ha fatta vediamo lo vedo subito al 73 maledetto Zoso no no siamo dentro siamo dentro si si siamo ci siamo siamo passati grande Axel bravo Axel grandissimo mi sente Axel si si assolutamente si ti sente grande live grande Axel iscriviti al mio canale amico mio ah ma dopo ti facciamo un altro bel so grande Axel ecco l'ho trovato il livello 404 eh Zoso ma tu vuoi tipo un ban permanente o uno di quelli temporanea lunga durata però lo bagniamo lo bagniamo di lì che lo bagniamo si fa il battere a Marco Tran sembra un errore è un errore questo è il tubo il tubo no il tubozzo questo qui no questa no questo è il tubozzo ragazzi lo bagna certo eh lo bagniamo bagniamo con la gattina no se non farlo ci facciamo a pagare ovviamente gli archi ci deve dare tot di polimero che sia la posta perché ballarle basta perché allora avessi da me rave se è un cuore del tuo amico il ragazzo che ho giocato grande 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 che non devi fare così facciamo tutti punteggio della squadra 0 credo che siamo tutti no e triste me lo ricordo me lo ricordo perché sei già entrato un'altra volta abbiamo già chiacchierato di questo ma sai che non mi dimentico sono già tutti i tuoi di pagamento imparino possiamo vedere la fine di questa angoscia o possiamo uscire come funziona il gioco ma io sono uscita dalla goccia prendi abbandonano spettacolo miglia di spettacolo infatti allora io ringrazio tantissimo zan e boy it's my leonard grazie grazie zan e boy ci vediamo alla prossima e grazie di tutto viene pure a giocare qui zan e viene giocare in sala con me così facciamo spazio a ma invita anche lui così allora ok grandissimo zan e poi è andato ciao amici amiche frac vieni brutto invitato allora fra che siamo in live con la mitica che su ne fra che la senti senti la kit saluta fra ciao ciao a tutti grande kit dai ora dobbiamo vincere marco io sai che sono molto ammargano ultimamente e quindi assoluto grande rai mega seratosky in compagnia della mitica kitsune che è la mitica kimberley la mia amica e anche di axel a quanto pare axel è un sacco di gente nuova team fad grande ciao ciao amico mio allora ragazzi poi tra un po spannerò il team fad official team iscrivetevi perché è il nuovo è il nuovo team che farò che che è una cosa che faccio per amicizia con questi ragazzi qui di giocare a formula 1 quindi iscrivetevi anche al suo team incredibile grazie grazie ma solo 1 22 chi formula 1 22 punto axel sono riuscito ma bene già dentro ha sentito è caduto ho sentito che piri e per invita a chi va tranquillo e oggi come però oggi per vostra sfortuna hanno le mie battute no neanche una piccola è un'altra cosa come l'altra volta se io faccio una vittoria canto oh no guarda che ti sentono anche gli spettatori di marco ti vengono a cercare a casa ti veniamo a cercare a casa ciao axel ha detto che deve moderare quindi può entrare qualcuno o se non c'è nessuno startiamo noi oh frac hai mal di gollo allora aspetta c'era manuel manuel è nella tua linea o nella mia manuel invitalo pure non so se poi scusate ho tipo il labiale che non funziona più e il cervello ormai è andato e vieni ma è praticamente c'era ho sentito che hai detto ciao manuel a un certo punto io c'è manuel sì penso che è venuto nella tua live che è quella ragazza che chiedeva aspetta che vado sì ho detto ciao ma non mi ha più scritto non mi ha detto l'idea se vuoi venire a giocare puoi venire subito dai se no stiamo troppo tempo aspettare partiamo e la prossima partita ma egli vuole giocare va bene dai startiamo sappiamo oggi grazie per il fallo e ruscio benvenuto voglio giocare anche tu axel dove te ne vai di bello axel se n'è andato e non ritorna più ha detto che va a moderare ma dove ma da voi c'era il temporale ieri sera sì sì è per quello che adesso c'è fresco qua c'è fresco dio non ci sono i 34 gradi ecco no 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 butta fuori tutti butta fuori tutti non è venuta fuori tutti amico mio dopo quando faremo le partitozze di formula 1 poi farò anche pubblicità mi raccomando entri dentro così facciamo pubblicità al team vostro comunque ok allora rush è venuto da te si è iscritto è venuto qui da me si infatti ho visto l'ho ringraziato si è grandissimo se vuoi venire a giocare puoi venire volentieri esatto chi vuole che se volete venire che cos'è sto team di formula 1 no è un ragazzo ti ricordi player shader hanno fatto una specie di campionato mi hanno invitato quindi quando un attimo di tempo vado a correre però chiaramente noi siamo team corse marco drams games e shader design quanto voglio io la odio come gli ho detto a Dario ah sono caduta ho veramente pochissimo tempo quindi quando posso andare perché no facciamo qualche corsettino anche secondo me anche la modalità peggio ha visto visto volare nell'infinito ieri vieni facciamo amici sulla play rush o non c'è bisogno qui sul pagamento eh no ci deve dare l'id perché se no non riesci a me devi dare lì sì sì se no non riesci a invitarlo ok dai 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 forza forza impegno amico grazie giuli grandissima giuli non ce la faccio io dai dai che ce la fai su sicura mai allora charter ma sulla play dc o su fai guys rucce scusa come gli americani grande lord facciamo qualificati sì come fate un po di file guys c'è anche l'amico zumi tuzzo a sul file guys ruscio ruscio tv ok adesso fammi finire poi meno di dici perché rush mi sa che me lo dimentico a meno che se lo ricordo la kim mamma mia la bruttissima memoria allora non siamo vestiti bene ma cavolo questo non era facile ma voi ragazzi non vi ricorda molto da che gli chiesto di questo gioco infatti è preso da quello sì 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 bellissimo sì 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 fatto apposta hanno avuto l'idea ora comunque è molto divertente poi in parti tanta roba la strana e piccola sbaglia poco secondo me altrimenti anche secondo me tutti non lo vedo benissimo perché c'è già stimma però devo dire che stavano anche delle cosine gratuita molto carina io io odio stimma e chi sa quanto ho volato ah è vero l'altro giorno per la passersi no a me piace molto sia stin che epica ecco è che sono molto comode lei è un mandato invito o cacchio c'è un riso che la poste sono arrivata si 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 è diventata bravo sono caduto nel posto più impossibile del pianeta ragazzi cosa per prima ma perché dovrà pure capitale bella proprio quella è difficile quella infatti è una macchina io non l'ho mai sperato grande dario momenti mi straccio con l'acqua preparati a bere aspetta un attimo facciamo così l'italiana e più vecchio del programma nipponico sì sì è vero è vero è vero hai ragione ragione un'altra voce di chi è così lo saluto è il mitico blu il mitico su ti salutano nella mia live a te blu arrivederci anche se non si vede ma vabbè basta che sia una parola oh no blu ha riscattato bene e mi raccomando mi sa che l'ho già fatto bravo io l'ho portato blu da te allora ancora più bravo bravo blu ma qui cosa bisogna fare ragazzi acchiappare le coni negli altri e poi non farsela più rubare ah la codina quella giallina ok qui ma è stata la mano più veloce di voi ma come si fa a prendere la più notte l'ho presa l'ho presa l'ho presa ce la faccio sono sicura ero lì per prenderla dai manca poco mi stanno le cascagna no 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 l'ho persa si è vero si sta morendo di caldo guardalo questo qui che corre l'ho presa si mannaggia l'ho presa si brava kitty io sto rincorrendo questo marco 20 secondi no ragazzi è di pochi di pochi l'ultimo secondo maledetto con queste modalità a me non mi piace un per niente che tipo tu hai la coda per tutto il tempo e poi alla fine ai ultimi 10 secondi ma sì 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 io sono uscita l'annaggia anch'io esco allora rasch rasch aspetta ruscio tv ok grande lord per fortuna che ci sono i vecchi amici che mi scrivono perché doveva ragazzi che eravamo finiti aspetta e quindi oggi per me è una giornata top perché perché siamo dati al mare siamo tornati a casa abbiamo festeggiato festeggiando fino ancora il compleanno il mio padre e poi mi sono fidanzato scusami mi sono fidanzato dai tanti auguri a blu dove l'hai trovata in spiaggia no era in spiaggia però poi mi ha dato l'insta e poi abbiamo iniziato a parlare ah bravo così si fa assolutamente sì ho comunque una cosa che mi danno fastidio molti uomini poi io a volte quando mi annoio vado su migo e qui cos'è davvero non lo conosci no non ho idea è praticamente tu in conti gente a caso parli o ti scrivi così lei e gli parli per un po' poi schippi poi decidete con il mio amico tanti auguri a blu stanno scrivendo di qua e grazie e anche tanti auguri padre esatto come si chiama assolutamente non è maxima maximo anche lei credo raga ma buonasera buonasera ciao a tutti buonasera buonasera quando gli altri l'hanno capito ma nella live di kit tu ti senti un po' strano si sente un po' andata a quel paese purtroppo sì c'è abbiamo dei problemi di audio oggi ma come si chiama la tua conquista linda non è un nome molto però linda non si può cantare cerco più no aspetta come si chiama ma scusami linda 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 ah perchè è nata lei è nata in Italia lei però è nata in Italia però ha i genitori moldavi ah ho capito sai cosa vuol dire linda in portoghese? no bella pulita no Pierpaolo si dissocia si dissocia a Pierpaolo ciao ragazzi dai a sto giro secondo me lo vinciamo non sento suzuki si charler il copyright marco è vero lord scusate ragazzi se vede se vengo bannate perché ho cantato un mezzo secondo balla linda e poi andrò a chiedere i danni all'amico all'amico blu amico blu incantante fallito che canterà se farà una vittoria no 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 per l'amore del padre lo canto sempre ragazzi la la musica è vita ciao nick ricordate è tutto nella vita non c'è nessuna parte della vostra giornata vostra vita io praticamente la prof di arte che femminista la nostra prof di arte è femminista e niente arrivano in tiranno con i corni a due pinguini nooo ma no ma di la lampadina mi hai fregato che fa una volta mi hai fregato no due pinguini persi anzi tutti pinguini persi eccomi scusa se scrivo poco ma vai tranquillo vai tranquillo mitico dali eh lo so fai 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 quello che devi fai quello che devi e mitico buttalo fuori e bannano banna tutti non c'è nessuna nina nanna auguri no tanta nina tanta nanna tanta nina lord nanna ti piace lord la canzoncina della nina nanna ti piace? ti dissocio marco lo capisce la nostra dote canoni che vedi tu no 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 tu in blu l'hai persa quella dote no no la dote canona l'hai persa marco no 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 sei sulla stessa linea di blu eh sei vicino eh grande rush com'è rush? eh come deve essere io stamattata la oggi raga ma io in teoria in teoria ci riesco a fare in teoria in teoria ma sono pieno di mod sono pieno di mod mi mancano un sacco di soldi Axel se vuoi contribuire che disastro l'audio zoso ma perché li senti alti loro o senti bassamente? grande Axel no a te si sentite bene comunque sempre ah ok quindi sentite strani loro? io non lo so come mi sento perché io quando ho guardato ah robotici eh ragazzi mi sa che avete voluto molto alto probabilmente mi sento no molto robot robot ah ok praticamente da me ti senti male tu Marco e invece da te mi sento male io è sempre quel problema di audio che abbiamo riscontrato prima tu Kim da me si sentono bene dicono i ragazzi mi senti altissima corre Marco ma porta miseria ma Enzo ciao Enzo oh io ci sono Axel come stai? oh io ci sono sono ancora vivo anche io zoso lo sistemeremo l'audio poi al prossimo giro prima di fare assolutamente un altro live sistemiamo tutto l'audio tanto Zoso l'importante è passare una serata con la mia amica Kim tra di noi tra noi fan di Marco Drums Games e Kitsune 93 trattino basso l'importante è una serata in allegranza ragazzi eh vero che poi tra l'altro ho scoperto che questo terminologia allegranza me l'hanno rubata uno youtuber famoso ragazzi e un po' mi girano un po' mi girano eh ah si chi? eh io ho iniziato due anni fa a dire allegranza e poi c'è stato uno youtuber che lo continua a dire eh io non c'è quello che vuole sono strana guarda quanto è buono Marco Drums Games potrei denunciarlo ragazzi lo farei fallire però non lo faccio Enzo che state a fare ma guarda stiamo cercando di vincere in questo gioco ma non lo so è oggi è una giornata sfortunata non lo so se vinciamo quindi Marco non c'è vi guardo dai facciamo la telecronica allora il grandissimo rush parte sopra il martellozzo ti sento come una galoppina dicono qua a Pia Paolo allora Enzo vuoi giocare anche tu? vuoi fare una partitina? Enzo vieni qua Enzo no allora la mitica Kim corre corre allegramente mentre rogola il catch up corre no dai 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 sei arrivato tu? sei tutti noi vai vai ma anche tu sei arrivato? io sono muerto chi? vi stavo guardando nooooo eh amica mia sono muerto no io sono adesso ho fatto il primo giro ok ma questo mi ha avuto le martelle vai rush vai rush vai rush ce la fai sei tu tuoi dai 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 ok dai io ti vedo rush ti vedo rush ti vedo no vai blu vai blu è appena superato giù giunto facevano la 36 ore vai vai blu vai blu la razza la razza la razza la razza la razza la razza con la razza la razza chi si sente le mie orecchie non resistono mi dispiace ragazzi mi dispiace il canale c'è un audio altissimo io non posso neanche aspetta io non posso neanche abbassarvi l'audio purtroppo da play magari adesso abbassiamo un attimo italiano non ci sento niente ce l'avete fatto a voi sì sì ma come lasciato l'auto visto partire arrivato se si riesce ad arrivare a 10 rientro ma sai che mi sa che proprio improbabile sai axel senza organizzazione in 10 secondo me difficile tutto viaggio una delle mie mappe per sedite quasi quasi manca anche il suo torno torno dopo domani su arc perché domani purtroppo mi vengono a prendere delle misure per casa dei moratori che mi girano per casa quindi domani non farò la live che no vabbè ma di sicuro i due persone era una cosa in transa lui ha detto giudice i due persone allora si albu hai ragione buonanotte nick e c'era da fare la lai la cosa da dieci non avevo trovato le dieci persone per farlo allora adesso io chi non so che ora a breve ciao xx come stai grandissimo il sito bene come fare il pane gli infami trattenete uno fino alla fine e dopo nulla ma non si fa neanche io lo fanno tre partite la kim va a nana e possiamo in due posti sono morto facendo sei caduto ci siamo infame e il karma il panozzo della kim che è qua è grande chi ci sia io ci sono ci sono ragazzi come mi sentite così un pochino più bassi ho provato ad abbassare l'audio delle cuffie direttamente è bevuto io avevo messo su sì ho dovuto sì sì prima delle prima che partisse la partita ci sarà il suo art e poi dopo domani ciao ragazzi iscrivetevi al canale di città su ne 93 trattino basso e domani sera ci vediamo con formula 2022 ok raga è il donna e c'è già stato un anno e devono e venerdì c'è certo sto giocando da ieri sera prima ho saltato di giocare in anteprima per giocare con tecniche quindi la nostra amicizia quindi ci sta io ti consiglio di andare forme distruggere il centro fare un cerchio e continuare e così poi tutti cadono ma sono caduta giù di tre dai rush ti vedo bene traccio scusa ma mangiare ok russi ratti chiamano allora va a momenti va via no 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 forza dai amico ma che mamma mia no lo sapevo è l'ultima no cantiamo insieme non dovete usare le parole perché c'è copyright io infatti faccio no 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 non ci siente lui ha detto quanti ti banna ha detto ok tanta roba non mi ricordo scusami dimmi chi sei amico mio o amica mia dimmi chi sei se prego non me lo ricordo non mi ricordo non mi ricordo nulla eh non è perché non mi ricordo di te è perché non mi ricordo di nulla tra l'altro sei iscritta o iscritto al canale grandissima grandissima allora ragazzi faccio l'ultima così lascio anche il posto per qualcun altro oh no eh sì ormai su quasi di 10 sono vecchia io va bene va bene dai allora aspetta una cosa io ho messo pronto però c'è questa cosa aspetta un attimo ah no fa peccato il tuo compagno ah è vero mi hai dato oggi l'amicizia avil grandissimo no me lo ricordavo allora axel mi vince per forza allora axel domani sera formula 1 2022 e penso venerdì sera gran turismo 7 lord nome è normale sì sì non mi ricordo un cazzo dai questa parola dobbiamo vincere per forza l'unico una monosetta stiera oppure c'è anche rush no io sto col pad sul computer quindi no io ho proprio monosetta stiera eh però con il pad è molto più facile sì è più facile questo gioco sì col pad sì sì anche secondo me è più facile col pad concordo no per me è più semplice non so mi viene meglio ecco basta usare il pad di xbox o di play no no io ho xbox voi conoscete il gioco stumble guys quello simile la fall guys sì io sapete che io praticamente io lo conoscevo e ci giocavo da quando faceva schifo da quando nessuno non lo conosceva io sono un veterano di quel gioco dai io infatti non lo conoscevo l'ho visto solo di recente io lo conosco da tempo quando non era per niente famoso tu axel già ti dà pc quel pad ma il pad quale? quello dell'xbox? no prima volta che cade in questa modalità no no questo non bisogna no sali 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 no io mi salvo qualifica no no e sai che axel non mi trovo con il pad dell'xbox e mi stasco non ci riesco con la playstation eh infatti quella playstation è sempre la migliore ma è proprio un film diverso ma ce la faccio ce la faccio si si bravi raga dai dai questa me la sento che la vinciano comunque io che sto bevendo come un caimano come bene il caimano qua è una mossa grande giulì oh no la facciamo prego quella difficile la facciamo è brutta questa a coriore a riguardo ok brutta non l'ho mai fatta questa questa è difficile io si io cado ovunque impossibile madonna quant'è lunga non è ancora l'ultima ok madre no madonna è già venuta no ma è complicatissima è difficilissima è impossibile difficile è una parola un po' così mamma mia che fortuna alpino ma no si vabbè è improponibile io ho appena sperato la prima parte qui ne manca quella no io si sono in fondo quasi dai vedi la fine no vabbè il tunnel a no 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 è è la ma la sua caduta sono inciampata nel nulla ma no no io odio io no non posso sclerare allora veniamo dai dai che ci facciamo sono sicura dai sono alla fine sono alla fine forse forse sopra e non facciamo uscire a crescita no adesso sono magari ciao mi sentite io sono qualificata la prima c'è stato pure ancora io farò casualmente ciao blu ciao tanto se capitava la partita delle cose finiva si è quella con interno all'otto dai veniamo dai forza io vi buonanotte amica mia ci vediamo domani sera con formula 1 amica ciao 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 io vedo che fa un borgo della fortuna e axel mi sa che lord buonanotte buonanotte lord ciao ciao ragazzi brava brava vero è vero ciao a tutti ci vediamo domani sera con formula 122 bella no si ha sbagliato assoluta no ti saluto la chi ma assolutamente ciao chi ti saluta lord giuli grandissimo ragazzi ciao 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 blu jean chi è andato sì sì notte a tutti ragazzi buon proseguimento ciao lord buonanotte paura ho paura dai che ne mancano due perché due non cadono cadete dai 100 mila dollar davvero dai e visto che hanno fatto il passo adesso non è vero ora c'è roba la pasta la roba dal passo per chi ha l'indicazione nel passo c'è pure in consiglia meccanico quello voglio quello bellissimo quello vorrei o io sono dentro vediamo se non vincere la dovrebbe essere l'ultima o la penultima dai 18 probabile che sia l'ultima l'ultima con così tanti no hai visto axel questo sento un'altra vittoria in tasca ma è quello da rimbazzare i fai conti no ho perso devo farmi dicevo che ho perso no dai ma è più difficile non sono brava in questo vai proviamo ma chi è questo visto goku cos'è sta roba mancano mancano fondamentale i cerchi ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua così in alto ok ce lo fa devi fare devi farvi 15 15 e la qualificazione 15 bene 15 salti no dai ma non è giusto E' alto, e' alto, e' alto, e' alto Salta, ma no Ma si, va dai Ma si, ma com'è che fanno saltare questi così in alto No, no, di sotto, no, 4 No, no, no No, no, mamma mia No, io questo, questo non so Come fanno a saltare così in alto Ah, ok, ok, dai, dai, dai Eh, vabbè, ci sento, ci salto al contrario Non vale al contrario Ma pure 7 Vai, 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 vai Me lo sento, me lo sento Due qualificati? Ok, no, no Qualificati? Come 3 Vai, vai, vai Beh, bastanti 11 Vai, vai, mancano 4 Corri, 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 tre posti No Mamma, che pressione Non c'è Neanche in Formula 1 Mancano 3 posti Ah, no Non salta, no Non sapevo, questo lo perdevo No, è troppo complesso per me Niente, è andato male Peccato, peccato E niente Sono lo stesso una serata in allegranza Come dice lo youtuber Marco Lo youtuber famoso No, cosa ho fatto? Come era un finale? Ho fatto esci Equipaggio Non lo so Ho fatto qualcosa Ah, è il passo Mi ha portato qualcosa del passo Fighissimo, ragazzi Fighissimo Vi si è detto là al menù? Sì, sì Perfetto Bene, ragazzi È stato un piacere Ok Allora, vediamo Grazie Prostino giro le vinciamo Dai E ci vediamo alla prossima Assolutamente Assolutamente Grazie a te e Marco Ci sentiamo prossimamente Bravissimo Ciao ragazzi Ciao 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 Allora, tu rimani ancora un po'? Sì Io ho altre decine In qualche vero Non ci voglio divertire Le faccio Dai, allora Vediamo se c'è l'amico Zubi Sennò partiamo noi E vediamo poi Quando entra Allora Io credo che in Chissà come si chiama Zubi Tuzzo In In Fall Guys Eh Tu hai qualche amico? No Non è No Infatti anch'io online Questa Cerchiamo Zubi Tuzzo TV Che in teoria Dovrebbe essere Io intanto faccio una cosa Utile Facendo il ventilatore Bravo 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 Sono d'accordo con te Zubi Tuzzo TV Gli ho mandato la richiesta Di amico Vediamo se l'accetta Ciao Salvo Allora stasera Penso che un po' per tutti Amici Si faccia una gran fatica Una gran fatica Arrivare A fine serata Con carica Con carica incredibile Si fa un po' fatica A fare le cose Però noi siamo Siamo sempre qui con voi Eh ragazzi Ok ho usato un po' il microfono Allora vediamo un secondo Se entra Se no io direi Le facciamo una noi due E quando entra Giusto Marco ci sentiamo alla prossima Ciao Axel Grazie mille di tutto Amico mio Ci sentiamo alla prossima E anche altri giochi Strafichissimi Dobbiamo risolvere il problema Con la kit Dell'audio Axel Magari tu che sei anche in gamba Ci dai una mano A risolvere il problemino Dell'audio Comunque grazie mille Grazie mille Axel Della serata E ci vediamo alla prossima Se vuoi rimanere in live da me Rimani volentieri Se vuoi uscire Quello che vuoi Potrei venire io Se si può Assolutamente Si Allora finiamo questa E poi ti invito Come ti chiami Su Five Guys Album Così Album di 10 Poi fammelo sapere dopo Ok Si perché ho invitato Girituzzo Ma vedo che non entra neanche in live Magari si sta facendo la sua live Allora aspetta Che ha risposto Ma siamo in tre Ci organizziamo Per un'altra volta Ok Niente Zubi non entra Così puoi entrare tranquillamente te Finiamo questa E Ah Soulkill Soulkill 98 Trattino Ok Andiamo Oddio Questo è un bordello Guarda con la cuffietta Incredibile Questo è il bordello Rush No 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 Senti Senti Ti prego Non cadere Quasi primo C'è Mattia Che è davanti Mattia stai dietro Stai dietro Mattia Stai dietro Cattivo Mattia Cattivo No È in mezzo Ciao Manuel Vuoi dire che tu vuoi giocare Emanuele No È sempre divertente È vero È vero Bregali Grandissimo No Non ti sa salito Sei riuscito Sì Quasi Alla fine Bravo Bravo Non dirmi che è una cosa di coppia Però questa parte Se non arriviamo tutti e due Non andiamo avanti No Non credo Ok Perfetto Sì ma se fanno così Non c'è Noi Non la famo Certo Infatti Favo un po' schifo Ma capita Una volta Delle sere No Rush Che è una roba incredibile Cioè A volte schizzi Che non ti becca nessuno A volte Continuano a beccarmi dentro Sono gli altri Che mi butta per terra Sì No C'è stata la gente Che infame Questo gioco Ma Beh È divertente anche fare quello Ti dico la verità Ogni tanto Quello lì Che ti branca dentro Da dietro Poi ti lascia andare E cadi Fa ridere Però Sì 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 Ok Siamo tutti e due qualificati Grandissimi Allora Manuel E Al V dopo Finiamo Finiamo questa E vi invito Con Il Soulkiller 98 Dopo me la ridici Vuoi giocare tu Mi amor Puoi far già questa O la prossima La prossima No Non possiamo farla privata Perché non siamo in 10 Oh questo qui che fa Guarda Ma lo vedi Abbi Cuta qua Ma perché non sta finendo St'appartita 25 Ancora Ma non passa nessuno Guarda che se Se quale Finale 28 E Ma parte Il timer Si Li ho buttato tutti fuori Davvero No Porca miseria Non sapevo Cosa Valor Comunque Comunque Ma qui E riesca a farme Soltanto questa Ok ok Come vuoi Come vuoi Che farlo Su Apex Vai tranquillo Vai tranquillo Tanto Sempre un piacere Quando Quando entriamo Poi tra l'altro Forse la prima volta Che ci sentiamo Con l'audio O sbaglio Vabbè Su Apex Apex Vedi 30 su 42 33 Era scritto Poi Le ha buttati fuori Tutti Grande gioco E' vero Scusami Rush Tu adesso hai capito Che io non avevo capito Chi eri Vero Da quando ti ho detto Sta cosa Abbiamo giocato Tutta la sera Intera Incredibile Ho una memoria Di minchia Ragazzi Scusate Ok Ma infatti Ti giuro No Io ho riconosciuto La voce Ho detto Questo qua L'ho già sentito Vabbè Non facciamo figura Di merda Marco Dirlo Che magari sai Invece Poi alla fine Vabbè Non mi ricordo una sega Scusate Scusate L'importante è divertirsi Comunque Quello sempre Ecco E dobbiamo farci anche un Apex Allora a sto punto Adesso Devi scusarmi Perché col Formula 1 2022 Che esce venerdì Mi ha incasinato Mi ha incasinato un po' tutte Capito Le live un po' Programmate Un paio di volte a settimana Apex Warzone E un po' Un casino Ecco È andato un po' così Certo Anche perché poi Voglio fare anche Formula 1 Perché ho preso Quasi tutte le macchine Rache Quasi tutte le macchine Me ne mancano tre Ho fatto tutte Quanto città Macchine Cioè Ci sto a giocare È brutto Vai Corri 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 Eh sì Guarda questo Come sta A trattene Eh non l'ho visto Cosa che ha fatto? Eh Quello che tutto colorato Col caschetto rosso Aspetta Che non l'ho mica visto Cosa ho fatto Cosa ho fatto Quello lì Eh Mi tirava Eh però fa un po' ridere Sì lo fanno apposta Anche a me Uno mi ha tirato Un po' ti fa arrabbiare Un po' ti fa arrabbiare Però fai anche a dirlo No Questo lo balle è pieno Dai dai Io ci sono eh No Ce la dovrei far pure io Ok Dai Ce l'hai fatta? Sì sì Hai fatto prima di me allora Io sto arrivando adesso Porta Corri Corri Dai 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 16 Sì Grande Figo figata eh Grande 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 Ciao Ciao ragazzi Alla prossima Tutti giù Bellissimo Bellissimo Che poi Si sporgono per vedere Salutano A me quando è appena uscito Mi è capitata una partita Che nessuno sapeva la mappa Eramo rimasti in dieci Il primo round No davvero Era un bordello Eh questo gioco è uscito un botto di tempo fa eh Sì io ce l'ho comprato Pagato Sì Anch'io 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 perché era troppo divertente Ho giocato Questa che cos'è? Cerca di non cadere nella merma Allora si muove bisogna farti un po' su avanti indietro Gira magari Io non l'ho mai fatto C'è cosa che sparano tra l'altro Mi dice Zonnebo Ma ci sono No dai Ma non ci credo Ci sono dei pad Incredibile Aiuto Aiuto io mi voglio abbracciare qualcuno Cascita No 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 il pad No No Una calamita Sì si è già morita Lo hai fatto Ai No 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 Un mondo intero è arrivato qua No 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 Sì Ce l'hai fatta? Sì sì Grande Beh non era malvagia Non era malvagia Pensavo che Eccoci qua L'importante è che stai in mezzo e fai avanti e indietro Sì infatti E chi stava ai bordi ha fatto una brutta fine Finale Finale proprio Semifinale Orca ancora semifinale No non dirmi che è quello lì della codina che io non riesco No la codina non c'è Oddio Oh Indovinare la strada C'è qualcuno ragazzi che è abbastanza terribile Eh sì faccio cadere gli altri E però Rimani metti 4-5 persone avanti e tu rimani dietro Eh sì Così cadono loro Ok No Ho saltato nel punto sbagliato No Guarda tutti che non vanno Incredibile Dai andate raga Dai forza Ma che c'hanno paura Oh Ah 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 Fortissimo Dai questo è bravo No Eh io ho perso No 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 mi stanno spingendo Nooo Fai il cuore il cuore Adesso vai lì Nooo Fatto Fatto Fai il primo Fai il primo Nooo Perché si sono qualificati in dieci messi io vabbè anche il gioco fa delle cose particolari da che vediamo raggi che sa che due stessi al qualificare insieme caspita ma era assurdo perché ero lì ero lì ero lì pensavo che era quello il punto giusto che c'è un problema spero che sia la corona di magari la corona no non devi cadere c'è la melma io lo odio è più bella la corona sì né allora ragazzi poi albu e chi voleva manuel c'è qualcun altro ci facciamo due tre partite ancora poi chiudiamo la live stasera ci vediamo domani sera con formula 1 2022 ok ragà siamo due tre partite decidiamo no sono morti che fai tu no ma non mi credo che fortunello attento eh attento amico mio vichingo vabbè ma comincia ad andare veloce eh grande no ok 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 morto è tutto visto che vero è più malato però che non è rivolto Vabbè Vuoi vedere chi vince? Vediamo chi vince? Comunque bella partitella Rush Grande Quando vuoi giocare a qualcosa Sai che io ci sono Entri in live e vediamo La mia win me l'ho fatta Grande infatti Sei stato l'unico stasera E' stato sfortunato Perché erano tre buchi Quando sei andato di lì Guarda questi Non gli capita nulla Si Ma come è possibile Qualcuno è morto E' un morto Quindi uno di questi due E' il campione Dai vediamo Io conto su di te Kiki Bravo Ha vinto quell'altro Manco Grande JSG Va bene Dai Rush Bella serata Davvero Grazie mille Quando vuoi sai che poi Ci entri in live E ci mettiamo da fuoco Anche su discord Vero Quindi Va bene Va bene Grazie Intanto poi se sentimo Sulla chat Va bene Va bene Amico mio Ciao Stami bene Buona serata Ciao Ciao Grazie Allora Vediamo un attimo Come ti aggiungo Allora Vediamo un attimo Se mi ricordo Che ha scritto Ha scritto come Soulkiller98 Trattino Però Me lo dici amore Come ho scritto Allora Io ti ho già Allora Invitami tu Quando mi inviti Dimmelo Dovrebbe arrivare L'invito Forse O come arriva L'invito Non me lo ricordo mai Ma perché io Non ti ho dentro Scusami Allora Soulkiller Sì 98 Trattino Trattino Medio Questo qui Amo Sì Perché non ha Scritto Nulla Non mi scrivo No Sì Soulkiller Kill Tattino E questo Profilo Ah perché è offline Ok Lo aspettiamo un attimo Che si collega Intanto vediamo Oh posso raccogliere questo Sì Che bello questo Ah se vai nel negozio Con quelli là Con i kudos Si chiama Questi viola Sì Vai nel negozio Negozio sarebbe questo qui No Negozio Vai giù 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 Ecco Comunque Con quei kudos Ah ma questo è occhiale Il marsupio Karamit Jane Questo che cos'è Che è Tutto Sì È tutto Il set Solo che Ah 800 cosi Buck Ok 13.079 euro Quindi per prenderne 1 800 6 euro Un costume Più o meno Vabbè ci sta Dai Questo però È bello Questo qua Ciao Io lo compro Eh lo compro Dai Sì Però io non lo uso Perché ho Quello là Dei pianeti Ah Qui sarebbe gli occhiali Eh 43.000 Puoi comprare Quello che vuoi Eh ma non mi piacciono Ci sono quelli Sì Bisogna aspettare Poi che arrivino Gli altri Ogni volta Sì Sono giornaliere Ah ok Cioè gli occhiali Potrebbero anche piacervi Ma al marsupio Prendiamo gli occhiali Dai Intento che aspettiamo L'amico Albu che entra Mi dà errore Orca Allora io ti vedo Offline Guarda Soulkiller 98 Trattino Riavvio un attimo La play E mettiti online Così Magari è quello Il problema Grande Zanaboy Cos'è questo? Cosa? È il posto Ah questi qua sono gli occhi violi Bello Eh vi da offline Probabilmente sono problemi di 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 Prova metterti offline e poi online Eh prova metterti offline e poi online ancora Dice Zanaboy Non mi fa entrare nel gioco Ah nel gioco proprio Ah ok Andiamo bene Assurdo ragazzi Allora intanto che Ti fa entrare nel gioco Albu Ti faccio fare Eh? Posso cambiare? Sì 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 Non so neanche cosa Vabbè tu intanto Allora però cambia per la cosa qui Che invitiamo Albu Che magari riesce a arrivare Ok No no Se vuoi entra pure Sta cercando di cambiare la personalizzazione Quindi stiamo qua ancora un po' Quindi se riesce a entrare Entri tranquillamente Che poi tra l'altro Io posso mettere l'auricolare Che queste cose Che qui non ce la faccio No ma noi abbiamo il posto Allora L'abbiamo? Sì abbiamo Abbiamo il posto Non so semplice Ma no Di un'altra volta no? Gioco non è L'abbiamo preso gratis Qui me l'ha scassato A Leo Vittorio Sì Vittorio E' un'altra volta no? E' un'altra volta no? E' un'altra volta no? Ho tirato Ah Adesso lo devi incastrare Dice che incastra? Certo Certo Come l'hai tolto Scrive Che l'hai fatto? Ho tipo girato E' venuto fuori Allora devi fare Di girare Avrà Così Quale versione usi Di File Guys Ah non lo so Perché PS4 No Sarebbe PS5 No Non credo Prova a vedere Aspetta vediamo se me lo dice Dovrebbe essere la versione PS4 Albu Sì infatti sull'app Squadra e grullo Ma dice versione PS4 Albu PS4 E' aggiornato Non capisco perché Perché fa così Sinceramente Stai già buttato giù E vabbè Ma non c'è Ah ok Sei entrato Perfetto Dai così almeno Adesso quando Quando finiamo Ti invitiamo E c'era il tipo E vabbè Non mi becco Il Super Smash Ma in faccia Può essere Super Smash Ma Non c'è Versione PS5 C'è la versione PS5 Non lo so Non Non Aspetta che controllo Albu Nooo Fuori Dai che adesso Entra lui Ah c'è Ah non lo sapevo neanche Sai Esci pure Metto Sì Allora invita Albu Killer Se c'è SoulKiller Invita Sì SoulKiller98 Ti ha invitato Amico Invita Allora sto vedendo Ma non sto trovando La versione PS5 Perché non mi trova Il gioco Poi tra l'altro Mi trovo i pacchetti Comunque dopo Provo a A vedere Non si dice Ok Il gioco completo Eccolo qua PS5 PS5 C'è scritto Quello sopra Ah ma c'è Falgai PS5 Ah Ma sai che Non lo sapevo Raga Non c'ho neanche Spazio nella memoria Non lo sapevo Albu Ma che C'è arrivato Un invito Schiaccia Dove Aspetta Non so se Il messaggio di errore No è un errore No è un errore Ma non mi dice Mamma mia Sto bottiglio Non mi ha toccato Ok Ok Kevin Vieni Soul Eccolo qui Eccolo qui Grande Grande Kevin Allora Metti Vai 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 Kevin Soul Killer È Kevin Amico mio Bello dai Fanne uno Che partiamo Partiamo Ok Vai Kevin Ehi mi senti Ah bello Ma non sapevo Che è il tuo Amico mio Eh si Ma infatti Lo ricambierò Con nome Beh Va bene che è così Però ci sta Sì Però Ma tutti mi conoscono Con quell'altro nome Eh infatti Infatti Non sapevo che eri tu Infatti dai Albu dai Vieni dentro Tranquillo Poi Soulkiller Sinceramente Quando mi hai detto Soulkiller No No Soulkiller Ma c'è Pensate Hai pensato Ma se ti ricorda Che sono io Sei d'accordo No Ti ricordi Che quando eri Soulkiller Non mi ricordavo neanche Che di te Eh C'è Quindi Incredibile 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 Ah ma c'è la PS5 Sai che non lo sapevo Si si Un numero 10.000 V-Bugs No Quella Viola Sì Quelli Viola Eh 10.000 Ci compri già un bel po' di roba Eh si Perché magari Perché ho giocato Apri Il 24 Posse Non Cudos Si dice Quei cosi lì Kevin Noi siamo Non siamo Cudos Che bello Come sono vestito Io scusami Da Donnina E Ma Comprarlo E Come facciamo Il passo Ce l'avevamo Nella stagione Percedere Ah 10 Ah quindi Abbiamo il passo E ci sblocca tutto Si perché Ha lasciato La roba Alla gente Vedi Qua ci sono Le gambette Poi sopra Dovevamo arrivare Dopo ci da A livello 36 Ci da Ci da La roba Ok dai Va che Sta iniziando Vedi pronto Amico mio Facciamo un paio Di partite E poi Soggiare Un di Dieci e mezzo Amici Sì Sì Giusto due particelle Perché sei te Amico mio Allora Oh Come ha dei pesantini Sì Grande Vai Fare Due milioni Io ho preso La macchina Quella lì da 13 Eh Due milioni Sono riuscito a prendere La macchina da 13 Eh ha visto Ha visto il video Hai visto Allora ne mancano Praticamente tre A me Una che è quella lì Della patente finale Sai quella Porsche Sì Sì Ecco Che non mi ricordo mai Come si chiama L'altra è una È l'Alfa L'Alfa Romeo 8C Quella vecchia Let's go È grande E l'altra è una Americana Penso O non me lo ricordo Tre comunque Tre macchine Ho finito Di comprare Tutte le macchine Del gioco Incredibile Mai Mai sono riuscito In In un gran turismo A comprare Tutte le macchine No io Vabbè io In Spagna In Sardini E poi Tutta una botta Tutta in una botta E fai un bel video Su Youtube Su Twitch Così dici Compriamo tutte le macchine Del gioco In una botta sola Eh sì Eh no Cioè le macchine Che riescono Che mi piacciono Mi compro Quello ci sta Però Il resto Aspetta Gli altri Aspetta Oh 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 Chi dà Aiuto Eh Oh So caduto Oh No No Non ha botta in su Mandato Vado Salire Ah È difficile Eh Sì Sì Però è troppo divertente Il suo gioco Troppo divertente Ma quindi Eri dentro Prima che c'era la kit Kitsune Sì Ah Forse Poi Fuso il buco Eh no Quella Kimberley È un po' Alta Il suo Eh ma non Non riuscivamo Proprio a settare C'era sai il rimbombo Che succede A volte anche a noi Quella roba assurda Che sembra La chiesa E allora abbiamo Spostato un po' Spostato un po' Finché non arrivava A non avere più L'effetto rimbombo Probabilmente Per non avere L'effetto rimbombo Però l'audio È andato A quel paese Capito Bisogna capire Come fare Perché È forse Magari Il suo Rigolare Eh ma l'abbassato Lei ha praticamente Quasi al minimo Non abbiamo capito Poi era già tardi Abbiamo fatto la live Via Sì Vabbè Allora Che mi dici Ti fuma la una Allora Allora Io Devo essere Sincero Con te Perché Primo Non voglio farti Spendere soldi Che poi Non ti piace Sì Secondo Perché Devo essere sincero Perché nessuno Mi paga Quindi La recensione La faccio Sul gioco Che Effettivamente Poi Io vedo Allora Secondo me Graficamente Il gameplay Il L'erogazione Del motore Ok L'erogazione Proprio A cambiare Le marce È spettacolare Nel senso Che hanno Veramente Fatto un bel lavoro Anche se ho visto Dei piccoli Cali di frame Ogni tanto Su qualche curvettina Che andava Ma ci manca Devo andare Ci manca Esatto Esatto Quindi ci siamo E come Mi sono trovato io Col volante Mi sono trovato benissimo Sai che Andrea Invece non si era trovato bene Ha usato I settaggi No Io mi sono trovato bene L'unica cosa L'unica cosa È che faccio fatica A fare il tempo Se devo Andare veloce Esco come un cretino Eh ho visto Non capisco Che è difficilissimo Hai visto Anche Charder Era sempre fuori Ma c'è Ho sentito Tanta roba positiva È bellissimo Ma proprio anche La pista nuova Le macchine nuove Dai tutto Anche il rumore Le gomme Che si vede Che si consumano È bellissimo È bellissimo Solo che Credevo Di Fare Velocemente Capisci C'era il senso Di capirlo subito Come il 21 E E Farlo Invece Sinceramente Ci vuole un po' di più Ci vuole un po' più di tempo Infatti Non so se hai visto Che c'era ancora La fine della live Sei rimasto dentro Fino alla fine Che alla fine Sono riuscito a fare i tempi Però Sono praticamente dovuto stare Due ore di live Capito Cioè due ore di live Sono riuscito un pelino A fare A fare il tempo Che è vinto Però secondo me È molto bello Si non sembra male Non ce ne sembra cattivo No Ce ne sembra Dovrei provare l'online Per vedere come Com'è Però la campagna L'abbiamo fatta tranquillamente In un secondo Io e E Sharder Fantastica Quindi Non lo so Non lo so Per cuo Perché Non sono Stavo provando Non città Uva Ciliegia Arancia Anguria Aiuto Io non C'avevo dimenticato Io Ci avevo dimenticato dai per una cosa facile dammi una cosa facile non fare il cattivo che si ricorda perché tutti devi ricordare quello che c'era sì ecco perché io sbaglio sempre sta giocando a lei sta giocando per fortuna c'era leo se loro vanno tutti morti lo sai allora amico mio dobbiamo farci una mega live su farming simulator e dobbiamo assolutamente comprare il gioco di fare le costruzioni è perché io voglio guidare il camion e usare uno scavatore quindi quello è poco ma sicuro anche se sarà inglese lo compro lo stesso adesso famiglia scoperta anche una moda che si chiama auto luada ah sì me l'hai detto che carica praticamente tutto l'oro sì ma vicino e carica che figata così non bisogna stare col muletto prendere prendere insieme bancali buccanica di su no no non si va più a questa è bella questa modalità questa spara pianeti giro fa la città levo il cuore dai 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 speriamo in Kevin dai dai stiamo vedendo oh mamma mia oh 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 aiuto oh buongatene grande mamma mia ma da quando ci abbiamo il vichingo forse è quello che ci ha portato sportura 12 oddio poche canvas versione ps5 non capito ma tu stai giocando da quello ps5 si la versione ps5 e cosa ti cambia ma sembra niente perché sono fuori e sono fuori adesso è fuori anche che vi praticamente era squadre al canneso no l'ho buttato fuori basti vedi che non funzionando bene se sono così 5 e beh ragazzi l'ha dato al mondo era andato a entrare mi dava l'errore entrava uscita lo scivo fatto entrare si ci dà l'errore anche a giocare a gran turismo comunque non è che non è che sia solo lui anche da errori no no ma mia ho iniziato bello con 13 milioni bastano sono arrivato a 20 20 quindi ho fatto quando ho fatto 6 milioni più o meno 7 milioni questa io sono talmente distrutto che finiamo questa sa che non sapevo che c'è la versione ps5 comunque è anch'io edito la disc per per installarla comunque io vedevo eh non sapevo proprio non mi hai visto eh non so se su Xbox c'è la versione se lo stavamo distrutto ragazzi se lo distrutto ci sono giochi che stancano un po di più rispetto a altri e quali più giochi di macchina e non mi stancano ti dico la verità questo mi diverte un voto quindi è figo però un po gli occhi dopo un po mi stanca che dico la verità perché è un po mi dà troppi colori accesi a prossimo ragazzi e vi anche capito poi ti buttano giù fai importante sono io youtube l'ho più spazio neanche per i giochi della playstation 4 più niente non so più spazio temi assurdo quanto riesco a riguardo scusami e adesso con la storia che ci sono un sacco di giochi ho scaricato l'impossibile ho riempito 5 terra di esterno e un terra e 850 della play non c'ho più spazio per niente ma questi due che si tengono dai fa troppo ridere ma non si può tenere poi uno no ma dico non si può togliersi da uno è caduto è caduto così impara a farlo stupido è caduto avrò tirato a marco sei che ho trovato una pagina vuoi far vedere adesso a passare nel gioco per vedere le macchine che ci sono no che in dare eccetera ma su sta facendo far vedere la di celulare beh a parte io lo comprate tutte però mi serve sapere quando è c'era la 8c dell'alfa romeo quell'altra eh sì mi mancano ancora tre comunque tre macchine mi mancano ma come fanno a saperlo loro scusa quando escono le mettono non lo so fanno prima non lo so per ascoltare ma che c'è tv di vita in anteprima ragazzi l'informazione che ci sarà crash bandico it's about time 4 ok qui crash bandico 4 compreso nel plan l'ultimo sì sì figo nel pass sì un bellissimo men of medan un bello anche quello è quello sì bello e anche non giocare a quello che era un gioco che avevo comprato io all'inizio 9 euro ed è fatto bene tipo tipo sparatutto fatto bene fatto bene tra l'altro aveva anche una bellissima grafica sto mese diciamo che vabbè io a kagadon ce l'avevo me dove danno e crash bandico che no quindi alla fine due giochi segresti poi giocare un copp che cosa meno che danno sì 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 da una storia copp se lo possiamo far su youtube o anche su twitter dopo vediamo perché c'è troppa roba troppi giochi troppe troppe cose da fare troppe robe su gt troppo formula 1 troppe cose no che quindi è un casino fa la programmazione adesso si è un po di così dice un po di cambiamenti deve farci nel senso di città di quello poco l'altra non sembra cosa neanche farne troppi capisci infatti è un po di 21 che fa troppa roba e non si fai una fan base importante insomma gran turismo formula 1 22 riporto sempre poi vedi una sera magari facciamo far guys una sera facciamo sì per cambiare farming apex anche apex non è niente male dbd anche dbd è bello poi viene ai giocatori boy che lui mi vince le partite perché bravissimo grande leo se le faccio io stai fresco sono lì a vedere di riparare il coso lì non riesco parla una volta se tutte le volte lo rompo una versione 5 con la grafica fatta bene già fatto come non ha già fatto già fatto con la grafica fatta bene sì d'amore fanno l'hanno fatto perché non me lo dice quando va dentro nello store per cavolate mi viene fuori come lo dice a guarda che c'è un aggiornamento di un gioco che tu hai che c'è l'aggiornamento in ps 5 gratuito no e mi viene proprio il messaggio che così lo so però questi qui tipo fall guys non mi è uscito questo messaggio per quello non sapevo neanche che che c'era grande zane ci sei sol tese grande che avviene bravo bravo mi sa che con che vi vinciamo a grande caso caspita sei felice una sera di aver 14 abbonamenti tinti colleghi il giorno dopo si saltano a 11 tra che sono scaduti non l'hanno rinnovati no brutta cosa caspita si è brutta così vabbè dici sempre sono 50 euro se non sbaglio eh sì non è male come uno a quanto pare sono offline ho detto un po di ritardi come si avrà un bel bel nooo ho sbagliato io prima a non seguirli ho voluto fare grande questo qui no corri corri tuoi eh eh sì da gran ce la faccio no sento attento che tutto quello no con le curi no 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 che vino vai vai dare sei tu il nostro eroe vediamo dove che vediamo che cade vediamolo vediamolo dov'è che dai vediamo il grandissimo dare poi ci salutiamo ragazzi vi aspetto domani sera ore 21 col mitico formula 1 2022 ultime basta con le bacine che ho trovato dice anche quando giorni ci sta la macchina quanti giocatori stanno con i giorni ci sta la macchina ha che figata che è che figata sì 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 figo figo e poi passa passa link mi sarà attento alla ventola perché ero in final no ma cosa c'è c'è l'f40 l'f40 arriva sì già c'è già c'è hanno tolto quella bravo hanno fatto quella che avevo comprati da 13 milioni a mezzo da 40 sì domani domani la macchina è bella brutta no non la so fare nella rubano all'ultimo no dai dai amore concentrati concentrati dai che facciamo una mega ultima finale incredibile dai provaci provaciamo se ce la fai ce la fai se non ce la fai amore bel apro non ho fatto che non mi aggir non mi aggirò non si sa non lo so non li spingi romanzi le trance e questa stella prana tra qui non dire le cose aspettative isti attento poter paint ok ciao ap vai tranquillo vai tranquillo no no attento 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 bravissimo e anche tu però attento ah ma perché era solo uno la gente prende la corona con r2 va lì salta e acchiaffa ok va bene dai è stato bellissimo grazie Kevin della partita della serata insieme ci vediamo domani sera formula 1 se ci sei Kevin ci facciamo una bella live e vediamo il gioco ancora insieme perché cerchiamo di capire se riusciamo a fare una partita una gara fatta bene dall'inizio alla fine senza uscire senza spaccare qualcosa ciao Kevin buonanotte ciao ciao buonanotte ciao a tutti amici di Twitch ci vediamo domani sera ore 21 formula 1 2022 ciao Zaneboy ciao Zaneboy e ci vediamo domani sera mi raccomando di seguire il canale fare le sub e iscrivervi e basta iscrivervi anche su YouTube Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch e Discord ciao a tutti buonanotte buonanotte a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.